Vorrei adesso invitare Giuseppe Valentino per il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il mio comitato notiziale che si approfondirebbe a livello testico. Il problema comunque è quello che secondo noi c'è l'aspetto che è pronto, il contatto di gente, il disegno di un'intera comunità soli, che si parla di un fischio, la gente di questo, se poi non avremo una parte di stupe di cantare, a rinforzare il ruolo, che si fa parte una volta, che non è tornare a lavorare con la testa, per questo modo. E se abbiamo iniziato, siamo attento che probabilmente ci davano qualche modo, non se Grazie a tutti.